E quindi chiamo però, perché dobbiamo accelerare, siamo quasi arrivati alla fine della prima parte del nostro percorso, prima della tavola rotonda, chiamo l'uomo più desiderato del pomeriggio, che è Sebastiano Ferrante, che è il managing director capo della Germania per l'Italia di PGM Real Estate, e quindi il senso è investire oggi nel turismo di qualità, lei oggi è l'uomo davvero più corteggiato, ma deve risponderci appunto a questa domanda. Adesso avendo sentito il patrimonio meraviglioso, quindi pendiamo tutti dalle sue labbra e delle decisioni del portafoglio e del suo fondo, che come dice, lei ci aveva anticipato prima qualche dato, si parla di numeri davvero importanti, davvero interessanti, e l'Italia? Va bene, devo ringraziare di essere stato invitato oggi da Marco e Claudio di parlare qui, mi devo scusare, all'inizio è sempre non bene scusarsi, però il mio italiano è lontano di essere perfetto, è la mia lingua di madre, però non la mia lingua di nascita. Mi scuso per qualche errore. Allora, ho preparato una presentazione un po' top down, da un investitore globale che gestisce mille miliardi di dollari under management, siamo uno dei investment manager più grandi al mondo, e nel settore real estate, che forse è la cosa più importante, tra real estate equity, investimenti diretti in immobili e request debt, facciamo anche dei mutui, siamo a 162 miliardi di dollari. Andiamo avanti, vediamo che in Europa siamo attivi principalmente in Inghilterra, Francia, Germania, Lussemburgo, l'Italia qui non è presente, dirò ancora un po' di più quando vado avanti. La cosa interessante è che noi abbiamo un portafoglio di 15,2% in alberghiero, però non c'è l'Italia, strano, il mercato più importante, il paese dove non c'è paragone al mondo di qualità turistica, e io ne ho visti tanti paesi, non c'è, è rinzante però che non è presente. Anche se l'opportunità di mercato è enorme, non solamente nel settore alberghiero, ma anche nel settore che noi chiamiamo accommodation and living, la nuova tesi di investimento nel real estate si chiama bets and chats, vuol dire letti e capannoni. Capannoni ovviamente per e-commerce e tutto quello che viene lì, letti per tutto il riparto che abbiamo discusso oggi, turismo all'aperto, alberghiero, hostels, student accommodation, micro living, senior living. Ci sono due global trends che vengono insieme, il trend del turismo, che è un trend globale, uno dei mega trends assoluti, l'abbiamo sentito oggi da tanti, e l'altro è urbanism, la gente si muove nelle grandi città, work, life, play, concept, come dicono gli americani. Si muovono dove si lavora, dove si diverte, dove si vive. La concentrazione che è sia per il mondo sviluppato o per quello che si sta sviluppando, la stessa tendenza. E questi sono i grandi temi di investimenti. Allora qui si vede un po' quanto è cresciuto il volume di investimenti nella settore accommodation and living in Europa dal 2010 fino al 2017. Qui si vede la crescita negli ultimi anni, 5 anni, 10 anni, stanze, number of hotel rooms. Però si vede che la crescita di overnight stays era quasi doppio. Allora la crescita è più alta della domanda che dell'offerta. Poi si vedono anche gli altri dati di crescita. 80 plus population, retired population, sono grandi stimoli per investimenti, che ancora non sono abbastanza rifletti in quello che facciamo e come investiamo. Allora, se si vede un po' qui, questi sono i volumi di investimenti dal 2010 fino al 2017. Apartment, student housing, hotel investment, senior housing. Io ho dovuto chiedere al mio research di inserire il numero dell'Italia, perché negli slides che noi pensiamo vedere non ci sono. Apartment, student living. E anche qui, dove i numeri sono più alti, hotel investimenti, è basso, in verità. Andiamo avanti, guardiamo un po' gli alberghi. Volume di investimenti in alberghi, hotel deals, per quartile. Londra, Parigi, Amsterdam, Roma. Londra e Parigi dominano il mercato di investimenti nel alberghiero. Io faccio sempre, quando vado a fundraising, ho fatto con i grandi istituti americani, fondi pensioni, Calpers, Calsters e così avanti. E gli spiego l'opportunità in Italia e gli dico, guardate, è molto semplice, più di un miliardo di cinesi non sono ancora arrivati in Italia. Però vengono, e non hanno il passaporto, non hanno il passaporto. Arriveranno. Quando è il primo passaporto che gli è stato dato, dove andranno? Roma, Firenze, Venezia, dove vanno? Vengono qui. Però non c'è le strutture ricettive di qualità. L'altro esempio che dico è Roma, 2018. Non c'è un Mandarin, non c'è un Park Hyatt, non c'è un Four Seasons. 2018. Questa è un'altra cosa interessante però, diciamo, che è molto legato, no, le domande di prenotazione con il GDP. La cosa più interessante però è questo qui. La linea scura è la linea di demand, overnight stays, cioè le notte in albergo. E l'altra è supply, nuovi stanzi, nuove alberghi, stanzi di albergo aggiunti. Si vede che c'è ancora tanta potenzialità di crescita, no? Allora, adesso abbiamo fatto qui un po' un confronto fra High Tourism Markets, dei mercati con grande turismo, contro quello di poco turismo. Quello che si vede è che questi sono i mercati dove il turismo ha un grande impatto, Barcelona, Madrid, Roma, Vienna, controllo di quelli dove c'è l'impatto è meno. E adesso si vede un po' quali sono le dati di performance. È ovvio, semplice forse, che i mercati con alto turismo hanno l'occupancy rate più alta degli altri e performano meglio dei mercati con poco turismo. Questo è Parigi ed è stato dovuto all'effetto degli attentati di terrorismo. E la stessa cosa è vera per il REFPA, anche lì, no? Le città con grande turismo sono anche meglio nelle revenue per stanza. Allora, vuol dire che in Italia, dove l'impatto del turismo è così forte, le potenzialità sono enormi. Occupancy rate per molto meglio che con le città con poco turismo. Una delle cose più affascinanti che io trovo, se uno fa il paragrone di Milano e Roma negli ultimi anni, quanto ha migliorato Milano a confronto a Roma, anche se forse, non so se c'è qualcuno di Milano oggi qui, a Milano non c'è niente da vedere. Per essere un pro... Le manderò lo speciale Milano a firma di dove... Però, lo sai che cos'è? Però a Milano c'è un sacco da spendere. Ristoranti, negozi, lifestyle. Diciamo che dopo l'Expo Milano, in questo momento riesce a far vedere anche una mattonella che sembra un'opera d'arte. Detto questo, le assicuro, la invito personalmente a Milano, le darò un mio giornalista come guida, le faremo vedere un sacco di cose meravigliose. Però ha una grande narrazione Milano, ha avuto questa grande capacità di saper raccontare un cambiamento che c'è stato, che a Roma in questo momento, come dire, ci sarebbe un gran bisogno a Roma di questo. Cominciando a togliere anche un po' di immondizie subito, però l'attenzione a dire a Camilano non c'è nulla da vedere. L'anno prossimo ci sono le celebrazioni leonardesche, stiamo riaprendo i navigli, potrei andare avanti per ore, ma non posso farlo. Comunque, lei ha ragione su una cosa, ma la domanda... Scusi, la posso fermare un secondo? Ma quindi se c'è tutta questa attrattiva, c'è tutta questa potenzialità, c'è tutta la prima parte del suo discorso, c'era da buttarsi al piano di sotto. Ma alla fine lei ci sta dimostrando che quindi invece... Qui invece è difficile, la verità è difficile investire in Italia. Faccio una domanda che farebbe un bambino, perché? Allora, è un mercato poco trasparente, inizia da lì. Investitori in tutto il mondo, anche se un italiano va a investire all'estero, la trasparenza è un punto importante. Se uno ha una trasparenza sui dati di mercato, occupa in si rete, così avanti è difficile investire, non sa in che cosa investo. Il secondo tema l'abbiamo discusso, il turismo non funziona senza infrastrutture. E' uno dei grandi problemi dell'Italia che devi sviluppare anche l'infrastruttura. Le infrastrutture. C'era scritto un grande articolo dell'OECD che dice, vabbè, c'è Gioia Tauro, però poi non ci sono l'autostrade che portano le merce al nord. Non ti aiuta niente se non hai le infrastrutture. Terzo punto, burocrazia. Io vivo in Germania, la burocrazia sicuramente l'abbiamo inventata, l'abbiamo sviluppata. Però la burocrazia in Italia è veramente complicata ed è difficile da spiegare a altri. Una burocrazia un po' inefficiente che alla fine della fiera... Noi abbiamo avuto esperienze, abbiamo avuto delle situazioni dove abbiamo dovuto andare a chiarire qualcosa davanti a un giudice e se poi dopo 15 anni uno ti dà retta, che cosa hai? Non ti porta niente di avere avuto poi dopo 15 anni un giudizio in due favore. Sono queste cose principali, semplici, non è che è complicato. Principali punti che in qualche modo si devono superare. Però mi lascia dire una cosa, perché io sono molto convinto di investire in Italia. E il motivo è semplice. Il motivo è quando si incontrano persone come Claudio e Marco, Human Company, come struttura, dove si trova grande passione, grande spirito imprenditoriale. Queste sono le forze d'Italia. Grazie. Direi che un applauso di nazione più non troppo, non lo potrebbe avere.